Ciao ragazzi e benvenuti in un video che è molto diverso dal solito, un video molto breve che ha semplicemente la finalità di coinvolgervi e presentarvi un videoclip che ho girato per la prima volta da regista oltre che da compositore della canzone stessa che riguarda per l'appunto la nuova uscita della mia band postmoderna. Ci tenevo a farmi questa pubblicità qui sul canale in realtà non per dei fini fini a se stessi ma perché nel concept per l'appunto che ho ideato nell'uscita delle P che ci sarà per fine anno mi sono ispirato tantissimo ovviamente all'opera di Bleach e già in questo videoclip ho diciamo in un certo senso attinto delle simbologie su alcuni aspetti che mi hanno particolarmente toccato nella trama di Bleach. Infatti la lacrima nera sul mio occhio o tanti altri elementi sono ovvi rimandi alla saga di Bleach. Questo perché come sapete se mi conoscete ormai da tempo qui sul canale alcune tra le tematiche che mi hanno affascinato di più nell'opera di Bleach sono proprio state tutte quelle storie, quelle backstory, quegli approfondimenti che erano legati ad esempio all'approfondimento dell'animo umano che secondo me vede l'apice della narrazione di Kubo soprattutto con la descrizione degli Spada. Per me Ulchiorra per l'appunto e tanti altri come lui che rappresentano ognuno un aspetto della morte dell'animo umano che sono collegati se ci pensate ai vizi capitali e ogni aspetto che deteriora l'anima di essere umano. E io in questa canzone e nel disco che uscirà per l'appunto volevo raccontare mi stesso le mie problematiche e ciò che ho dovuto passare con delle simbologie che ho sempre adorato prendendo ispirazione per l'appunto da opere come Bleach. Quindi se siete curiosi di conoscere la mia musica, le mie creazioni in un certo senso oltre questo canale vi invito a iscrivervi qui in descrizione vi lascio tutto il canale, il video e via dicendo ascoltare per l'appunto e dirmi la vostra perché ci tengo anche come sfida per me stesso a vedere se magari alcuni di voi riescono a leggere dietro il significato della canzone e del video quali sono le ispirazioni che ho avuto per Bleach. Alcune sono esplicite nel video, altre secondo me no e soprattutto c'è una scena in particolare molto breve che secondo me potreste interpretare su diversi punti di vista. Ci tenevo semplicemente a raccontarvi questo quindi se vi va fatemi sapere cosa ne pensate. Un bacio ragazzi ovviamente tornerò a breve dopo un esame maledetto che mi sta tenendo impegnato a parlare del nostro amato Bleach. Alla prossima, ciao belli!